I dettagli sono tutto. Essi sono la parte in ogni cosa che fa la differenza. Bisogna prendersi il tempo giusto per essere certi che ogni cosa sia come deve essere. Essere un maître del matrimonio significa questo. Essere certi che quel giorno ognuno è al suo posto nel momento giusto che sta dando il meglio per dare il suo contributo a una magia, la vostra. Io sono partito da qui, da questa terra che mi ha insegnato cos'è la sacralità e cos'è la poesia per questo nuovo percorso fatto di luoghi straordinari ed esclusivi, di cura per i dettagli, di studio e di ricerca, di organizzazione, di persone, di gesti che fanno la differenza per il primo giorno di una vita insieme che non dimenticherete mai. Tutto questo è Maiolo. Piacere, sono Maiolo. Ah, il maître di matrimoni, ho sentito tanto parlare di te. Mi fa piacere. Beh, a questo punto non posso non chiederti se non organizzo il mio matrimonio. È un grande onore per me. Piacere. Noi abbiamo la possibilità di organizzare il tuo matrimonio in diverse tipologie di location che noi possiamo decidere assieme. Sarebbe bellissimo. Noi abbiamo la possibilità di organizzare il tuo matrimonio in diverse tipologie di che noi possiamo decidere assieme. Noi abbiamo la possibilità di organizzare il tuo matrimonio in diverse tipologie di